Amici telesmundiani, bentornati, siamo su Telesmundo e su Telesmundo Plus, il secondo canale. Allora, questo video qui lo carico su Telesmundo, diciamo il canale principale, ma non è il canale principale principale, perché il canale principale era il vecchio canale creato nel 2007, che poi durante la pandemia, nel 2020, me l'hanno cancellato. Ingiustamente, ingiustamente, era arrivato a 50.000 iscritti e stavo strongando i poteri forti perché facevo 300.000 visita al giorno. Parlavo di politica in maniera pesante e avevo pubblicato tantissimi video dove stavano strongando i poteri forti. Questi qui, avendo il coltello dalla parte del manico, ragazzi, mi hanno chiuso il canale. Però ho ricreato questo nuovo secondo canale, di nuovo con il shadowbinding censura totale sul canale questo Telesmundo. Poi ho creato Telesmundo Plus. Ragazzi, su Telesmundo Plus che ho meno iscritti, ho 300 iscritti rispetto a questo qui che ho 3.000 e qualcosa, a volte carico i video doppi e i video su Telesmundo Plus fanno più visite di Telesmundo, questo vuole di 3.000 iscritti. Facciamo la prova con questo video. Facciamo la prova con questo video. Pubblicato su Telesmundo Plus e su Telesmundo... Allora, fate una cosa voi. Andate a vedere se siete su Telesmundo Plus, che state vedendo questo video. In descrizione vi metto il video, stesso video, uguale, che è questo qui, che è caricato su Telesmundo normale, l'altro, con 3.000 iscritti. E viceversa, per vedere le visite e i like. Ok? Facciamo sta prova. Metterò i stessi titoli. Metterò i stessi titoli. Così voi vedete, vedete, Telesmundo di 300 iscritti e fate voi il paragone di commenti, di like, di visite. Fate voi. Potete anche fare la prova, vedere anche altri video, video short. Andate su Telesmundo Plus e poi ritornate su Telesmundo normale e metterò il link sotto. Così voi stessi vedete. Allora, questo video qui era per farvi, per avvisarvi che dovete andare su Instagram. Su Instagram sto, ragazzi, facendo i miei video per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il benessere fisico e il benessere mentale. Video motivazionali per invogliare la gente a migliorarsi e ad avere successo, ragazzi, nella vita. Successo nella vita come si ha? Si ha allenando, allenando il corpo e allenando la mente. E se tu hai un buon corpo e stai bene con te stesso, è ovvio che avrai poi successo anche nella vita, nel lavoro, nella vita sentimentale, in tutto, in tutto, in tutto. E stai bene, stai bene con te stesso. Perciò, connettiti su Instagram. Subito dopo aver visto questa cosa qui, sempre in descrizione vedrai l'account di Instagram. E mi segui su Instagram. Segui le storie, segui i Reels, eccetera, eccetera. Ok? Di tanto in tanto farò video qui su YouTube, ma cercatemi su Instagram. Su Instagram ci sarò tutti i giorni. Su YouTube, una volta ogni tanto, quando mi viene in mente qui di YouTube, perché avete visto, YouTube favoreggia i canali, altre personaggi che non dicono la verità. Invece la gente che scomoda come me, che ha parlato di politica in passato e ha strungato i padri forti, la mettono in basso nelle classifiche. Ragazzi, però guardate un po' come lavora YouTube. Vedete che sul canale più piccolo faccio più visite rispetto al canale più grande. Perché, secondo voi? Potrei anche fare i video su Telesmondo Plus, lasciare perdere l'altro. Però il problema qual è? Non voglio perdere tempo. Perché poi su Telesmondo Plus, quando cresce, quando cresce, quando cresce, loro magari, non so come lavorano con gli algoritmi. Vedono che sto crescendo, eccetera, eccetera, e parlo di politica, eccetera, e poi mi bloccano di nuovo, pure su Telesmondo Plus. Perciò, leviamoci mano su YouTube. Io sarò solo, esclusivamente, su Instagram, solo su Instagram. Arrivederci ragazzi. Grazie.